5, 4, 3, 2, 1 Leonardo, sei arrivato da pochi giorni. Che impressione hai avuto del gruppo, del mister, della Juve Stabia in generale? Sicuramente un'ottima impressione, anche perché poi comunque qualche ragazzo già lo conoscevo, avevamo giocato insieme e quindi si sta già creando un bel gruppo. Poi comunque in questi primi giorni l'importante è creare un gruppo forte, che sia unito, che tutti siano bene e poi lavorare come stiamo lavorando, iniziando a preparare le cose tattiche diciamo. Si lavora tanto, quindi tira dal Fedena, mister Pagliuca con tante doppie vi sta facendo mettere un bel po' di benzina nelle gambe. Si, si, no, è giusto che sia così, anche perché la stagione poi sarà lunga, sarà complicata, ci saranno tante partite, quindi è giusto che si lavori quando si può. Lei, ma conoscevi già qualche compagno di squadra? Si, si, conoscevo Berardocco, che ho giocato insieme a lui e Bolzano, Kevin, che eravamo insieme, la Rosa, comunque tanti altri che da avversari ci siamo visti sicuramente. Nel tuo video di presentazione hai parlato della città di Castellammare, non hai ancora avuto modo ovviamente di girarla perché siamo subito partiti per il ritiro. Cosa ti aspetti dalla città di Castellammare e dalle bellezze che Castellammare di Stabia offre? Ma so che comunque sul mare è una città che è passionale, la gente ci tiene, ci tiene alla squadra, alla città, e quindi so che mi troverò sicuramente bene, ci sarà modo di conoscerla e di viverla al meglio. Il Menti è la nostra forza, il nostro catino, il nostro fortino. Quanto hai voglia di farlo esultare, quanto hai voglia di farlo esplodere dai tuoi vuoi? Ma tanto, tanto, anche perché sono qui per far bene, per migliorare lo score che ho fatto l'anno scorso, per vincere le partite tutti insieme, insieme ai miei compagni, ai tifosi, all'ambiente. Quindi penso che quest'anno ci possiamo divertire, aspetta a noi, aspetta a noi giocatori, ai tifosi che ci stiano vicino e secondo me possiamo toglierci delle belle soddisfazioni. Sei giovane, ma hai tanta esperienza alle spalle. Cosa ti ha spinto ad accettare la maglia della U-Stand? Sì, sì, sono giovane, so che posso ancora fare bene, voglio comunque fare un campionato importante, di vertice. Mi ha spinto a venire qui perché so che la piazza è comunque molto esigente, è una piazza importante e quindi quando mi ha chiamato ho deciso subito di venire per mettermi in gioco e per cercare di fare un ottimo campionato. Il messaggio di Leonardo Candellone alla città e ai tifosi di Castellammare di Stato? Il messaggio di stare uniti è provare a divertirci tutto l'anno insieme e di toglierci delle belle soddisfazioni, che ce lo meritiamo. Grazie a lei. Grazie.